Vuoi farti un tiro, infermiere? Ti vuoi fare un tiro a me? Allee, oh, 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 oh Iscrivetevi al Calcio Club Animale Caffetto e Baccalò che a confronto gli alleganze sono il dopo lavoro delle ballerine che la domenica ci divertiamo con la pazza abbiamo assalito il pullman dei tifosi avversari abbiamo sbagliato, abbiamo assalito la scuola bus che hanno detto, vuoi di che squadra siete? mi hanno detto della terza cigarrina io per impressionare gli ho detto una volta pulendo la pistola mi è partito un colpo e ho ammazzato uno allora il professore di ginnastica è venuto parato in un paccarone mi ha detto scusso, mi stavo pulendo le mani mi è partito un colpo e per trovare tutti i molari abbiamo dovuto usare il bidone ha aspirato tutto ha sempre detto che il calcio è un fatto salutare salutare